Finito l'allestimento a Genova-Pra, la nave Tronzo, cioè il cantiere galleggiante per la costruzione dei cassoni più grandi della nuova diga di Genova, è ricomparsa molto visibile nel porto del capoluogo al terminal crociere dove riposerà in attesa dell'approdo a Vadoligure, dove già si trova attivo il cantiere Dario che sta costruendo i cassoni più piccoli dell'opera. Il trasferimento a Evado è previsto fra un paio di settimane quando dovrebbe anche iniziare la costruzione dei cassoni più grandi. Intanto nonostante l'inchiesta che sta sconvolgendo la Liguria con l'arresto tra gli altri dell'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini, i domiciliari per il presidente della regione, l'imprenditore Aldo Spinelli e l'indagine aperta anche a carico di Paolo Piacenza, attuale commissario del porto di Genova-Savona, resta confermata la cerimonia di affondo del primo cassone della diga a Genova il 24 maggio, salvo mare mosso al riparo delle metafore in questo caso. Aveva confermato qualche giorno fa a Primo Canale lo stesso sindaco di Genova e commissario della diga Marco Bucci, spiegando che tutto va avanti regolarmente e nei tempi previsti.